L'Italia e la Sicilia sono mortificati non da una forma di protesta come la mia che è servita a spezzare il muro dell'omertà, ma dai parlamentari come l'Onorevole De Benedictis che fanno i moralisti essendo parte integrante della mangiatoia del governo parallelo. Lo afferma il deputato regionale Cateno De Luca che ieri, state vedendo le immagini, si è spogliato nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana ed è rimasto coperto da una bandiera giallorossa con la trinacria, simbolo della Sicilia legata alla vita per protestare contro la decisione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche di estrometterlo dalla Commissione bilancio. L'Onorevole De Luca aveva dichiarato Roberto De Benedictis, deputato regionale del Partito Democratico, a reca vergogna a sé e a tutto il Parlamento siciliano a prescindere dalle ragioni della sua protesta è indecente che un interesse venga rappresentato in maniera tale da ridicolizzare e mortificare un'intera classe politica, così aveva detto il deputato regionale Roberto De Benedictis.